Ragazzuoli, e se vi dicessi che il tanto infamato Gohan Green è finalmente entrato nel meta? Questo Gohan ha avuto un po' di difficoltà, appena uscito gli mancava un team di appartenenza e in più era praticamente inutile per il meta. Con l'uscita invece di Goku Super Saiyan tutto ciò è cambiato. Il buon Gohan penso sia il personaggio di colore verde che riesce a tankare meglio tutti i blu del meta, in particolare Goku Super Saiyan. Quindi quando incontrerete quella line-up con per esempio doppio blu, lui sarà il punto centrale della vostra difesa. Questa è una delle versioni che vi ho citato anche ieri nel video, mettete semplicemente Gohan e togliete MVP. Se avete più stelle potete mettere HP in bench, io preferisco di no perché Goku è solo 3 stelle e quindi gli servono 3 Zenkai bench. Gli equipaggiamenti sono corretti, detto questo ragazzuoli andiamo subito in PvP. Ok, allora, vediamo un po'. Allora. Buono. Tenda c'è un vp dietro. Oh non lo mette il bro? Voglio bene. Ma ti voglio benissimo allora. Andiamo. Buono. Un team per Goku senza Gokuza? Eh bro. Puoi provare a giocare... Male. Puoi provare a giocare... Allora. Non mi pensare. Un tipo giallo-giallo-blu con Jiren e Kido. Ci metti Goku dentro. Oppure tipo Pan, Gon, Green e sto Goku. Pure. Puoi provare. Madonna, i danni. Questo schifoso. Vai. Male. Madre mia. Lo mette Goku. Poco. Mi può lasciare così il bastardo però. Mamma mia. Oh bello che stai curato di tantissimo il mio bro. Ok. Perché sta laggando così ta? Guarda il Goku. Vai. Vai Gon. Il Got. Vai caro. Tira dritto. Qua si troppa. Bello. Bello. Bellissimo. Non laggare. Ok. Vabbè, Revivalz è volato, guys. Invece no. Attenzione. Il bro non lo ferma. Ok. È una verde. Finalmente ce l'ho. No. Vabbè. Va bene. Perciù va bene. Giusto per sicurezza, eh. Oh, questo in teoria cura tutti e in più li buffa anche. Perché sono un passare di Santa Counts, quindi ci stiamo. Bene. Bene, bene, benissimo. Io la mia ne ripende il Vanishing. Guarda come la sta cucinando. Bellissimo. Bellissimo. Facciamo così. Andiamo dritti. Allora, anti-cover per 2 card draw speed. E se provo a mettere Goku, usa la mazza di ultimate. Se provo a mettere MVP, la mazza è uguale. E infatti, lascia. Revivalz è molto bene, eh. Molto bene. No male questo. Mi rascia? No, non mi rascia. Allora, però, mi sa che ti faccio malissimo. Eh, mi sa che sei morto. Eh, mi sa che sei morto. Uh, no. No, la mia ulti mette l'ho cata. Non ci credo. Non ho sentito saltelli, non ho sentito niente. Provo di schivare. Ok. Eh, vabbè, no. All'inno non lo fa. Tutta la vita non lo fa perché è nerfata ed è full HP. Mi farà tipo metà HP nerfata. Uh, beh. Ma c'è nerfata! Quanto è bello il bro. Quanto è bello il bro. È pazzesco il bro. Sì, vai Gokuzza! Mamma mia! Finalmente te l'ha fatta fare! Grazie bro! Allora. Oh! Dai, metti il Vegito fallo. Uh, Bellino nemmi fa però. No! No! Sì, vai! Vai, vai! Il Goat! Tanca tutto! Eh, ora solo Vegito vuoi rompermi un po' le palle. Però Vegito lo fermiamo subito con Goku. Where is the problem? No, non ce l'ho a Legend of the King for the Death, bro. E non intendo prenderlo, prenderò un altro mille event, insomma. Uno blaster. Godo! Godo! Aspetta. Peccato, peccato perché se no era morto di main. È solo che non l'avevo già caricato in un po' di alla main. Se l'ho caricato almeno una volta, allora a quel punto poi la main mi si appa del 50%. Se no no. Però... Mmmmm. No, dammi... No, non ci credo. Oh, aspetta. Poteva switchare. No, ok, è morto. No, perché troppa combo compensation e non ero sicuro di ammazzare quel Vegito. Quindi ho detto, vabbè, provo a droppare un attimo. Ho pescare un'altra carta, non me l'ha pescata. Però abbiamo preso una kill garantita qui, quindi... Never mind. Bam. Eh, bro. Eh, bro, andiamo dritti. Uff, uff. Mmm. Ok. Bella, ma c'ho gone. Oh, guarda il brogon come... Come se li tanka questi due. Ok. Vai. Saltino... Fatto. Ho pure i danni, non so, male, eh. No, ho sbagliato. Aspetta. Ok. Ora lo ammazziamo. Easy. Ok, ma ne so lo Gokuzza. Per occhio, eh. Per occhio, eh. Punto schema di WANT, Chizza. Sono un clown. Curio che faccio queste cose. Eh... Eh... Posso mettere un attimo Gohan. Ma il neutro l'ho finito? No, ce l'ho. Però mi sta semplicemente aprendo perché ha troppi danni Gokuzza. Uh, bello questo switcherino. Da pazzo psicopatico, mi piace. Io mi sa che lo ammazzo, eh. Penso anche di prendere un SM abbastanza abbaffato. Mi dai il kill a verde? Eh... Mi dà poi le altre carte. Bello. Bello questo one combo così. Garantito. Let's go. Let's go. Via. Bam. Bam. Bro! Il potenziale di Gone Green si è sbloccato. Si è sbloccato sul serio. Pazzesco. Anche perché poi si becca poco. Becca poco in Ciro. Ecco qui, buonasera. Stavo stendo a verde. Uh, clash interessante. Vabbè, 9-7-6 non è male. 9-8-8. Tanto cielo. Eh, qui che entra lui in gioco. Eccolo qua. Lui se lo tanca. Tranquillamente. Il problema poi è Gokuzza. Perché se entra Gokuzza ci fa davvero tanto male. Però abbiamo anche il nostro di Gokuzza. Magari poi da mettere. Una bella cover e entra. No, eh. Ok. Vai bro. Vai bro. Vabbè, questo è solo tanco. Ci siamo. Non so perché non stiamo mettendo purple. Mi va benissimo. Ok. Va bene. Guarda i buff che ho. Aiuto. Perché non si è scelentare in combo? Dio mio. Ma quanto aspetta questo uomo? What the fuck bro. Palmiamoci eh. Facciamo così. Boom. Boom, 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 boom. Gokui? Sì. Va bene, va bene. Non volevo rischiare. Ok. Riesca a lasciare questo Gokui? Godo. No. Dai un rush nel volo. Verde. Ma per fortuna. No, è racing rush. Comunque questo uomo ragazzi non... Ecco, l'unico problema magari è che senza MVP qui non sei coperto da racing rush. Perché comunque il gone ti leva solo una sfera. Non è che ti va... A dare una garanzia. No, Dio santo. No, buono. Me ne aveva chiesto bastardone, che fastidio. No, ma ho schivato. Ho schivato, non ho fatto nessuna azione. Mamma Dio mio. Non ci... Cioè, mi ha preso... Mi ha preso... Cioè, ragazzi, mi ha preso la verde... Sul mio quick. Mi ha preso la verde sul mio quick. Oggetto dello strike poi. Quindi neanche mi interro a spesa il move adesso, santo cielo. Dai. Va bene. Eh, ha già entrato tutto. Non potevo fare niente. Eh, qui mi prende una kill, mi sa. Posso provare a mettere Gohan, ma non so se riesce a tankare. Ah, vabbè, si è curato, si è curato. Si è curato. Si è curato. Smettiamola, dai, cucciolo, smettiamola. No. Siamo a Goku. Io la tanka? Sì, perfetto. Bravo. Ok. Bravo. No, perché non ho tirato la verde con l'anticover? Facevo prima, sti cavoli che non era full. Oh, per quale motivo non l'ho fatto? Dai, mannaggia a me, mannaggia. Eh, vabbè, bravo, dai. Morigon. Ciao, Aziopé, buonanotte. Aziopé. Rip Gohan. Però se mi sa che è volato, c'è questo piccolo... Piccolo sentimento. Piccolo presentimento. L'abbiamo perso. Buono. Buono. Se ne scappa il bastardo? No. Muori. Forse si può vincere. Dai, però. Dai, però. Devo cercare di resign rush, mannaggia a me, Cristo Dio. Eh, vabbè. Eh, deve morire uno. Niente, lascio il got. Lascio il got per lo showcase. Lascio il got per fede. Non mi interessa, però, viaggia. Bam. Non la verde dietro, vabbè. Non va niente. Buono. Aspetta. Aspetta che il got e la glaccia. Aspetta che il got e la glaccia. Senza resign rush. È pulito. Senza resign rush. È pulitissimo, guys. Pulitissimo senza resign rush. Mamma mia, Gopo, quanto sei bello. Tre stelle, tre stelle. Cristo santo. Allora. Guki Purple, Vegito Gopo. Comunque questo Guki Purple ancora lo usa, no? Ancora lo usa. Oh mio Dio, basta. Ok. Vado. Verde. Oddio mio. Guki Player. Ok. Vai. Buonissimo. Mentre io potrei anche girare la verde adesso, per poi riprenderla dopo. Una seconda, vabbè. Ci siamo. Andiamo. Gira bene, gira bene, gira bene, gira bene il team con con green. Non è male. Buono. Io qua in realtà rischio, ma questo è un'altra kill, eh. Antico versicura ce l'ho. Qua prende anche un bel lock. Sì, qua... Ma se prendiamo la kill? Anzi. La prendiamo e basta. La prendiamo e basta, perché qui qua esplode. Bro, non stai... Ok. Pensavo si stesse disconnettendo. Rimangono Vegito e Goku, ma siamo veramente grossi. Abbiamo anche ripreso la priority con... Cioè, qua del vanishing. E rischiamo di riprenderla priority, vista la minability. Va bene. Eh, attimo, posso più levarti il neutro, purtroppo. Però va bene, uguale. Furgarti ci riesco. No problem. Peccato, peccato. Buono. Buonissimo. Guardalo come non si ferma, guardalo come non si ferma, cucciolo mio. Certo, qua Goh non ha fatto niente. Effettivamente vinto da solo Goku, però vabbè. La mettiamo un secondino. Sto per... Sto per che non c'ho... Ok, ottimo. Mamma mia. I danni del bro non esistono. Ok, niente. Qua Goku ha assolato completamente un mostro. Semplicemente un mostro. Via, 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 via. E ripeto, sempre tre stelle. Quanto sarebbe bello averla seguita. Giuro. Non posso nemmeno immaginarlo.